Musica Diciamo che hai la possibilità magari di vivere con lui delle emozioni fantastiche come viaggiare il mondo, vivere a stretto contatto le gare che sono incredibili. Musica Tantissimo, assolutamente no, è una cosa bellissima e certo loro sono lì per Marco e di conseguenza amano Marco e amano me e la sua famiglia, quindi ovviamente quando esco mano a mano, i bambini piccoli così, io sono felicissima però prima c'è lui insomma. Musica 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 Musica